Musica Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti a redibagno. Tu scegli? Noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aruncade, Treviso. Bentrovati al meteo. La pressione tornerà ad aumentare sul nostro territorio. Il clima sarà dunque mite. Vediamo il dettaglio di domenica 17 marzo. Sul Veneto sarà possibile qualche nebbia in pianura e nelle valli di mattina. A seguire rasserenamenti ampi con spazi di sereno alternati a locali annuvolamenti. Temperature in contenuta variazione, minime tra 6 e 8 gradi, massime tra 14 e 18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Nella notte e fino al mattino avremo foschie o locali banchi di nebbia su pianura e fascia lagunare. A seguire schiarite e nuvolosità a tratti. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 5 e 6 gradi, massime intorno ai 18-19 all'incirca. Dal Meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti a redibagno. Tu scegli? Noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aruncade, Treviso.